Soltata la seduta del Consiglio Comunale monotematico sui rifiuti attori del Greco, richiesto dai consiglieri comunali di opposizione, per mancanza in aula degli stessi firmatari. Non tutti presenti i consiglieri di opposizione che nei giorni scorsi avevano presentato al Presidente del Consiglio Comunale, Gaetano Fruglio, la richiesta di un Consiglio Comunale per discutere ed affrontare la problematica dei rifiuti in città, un'assenza che di fatto ha comportato il rinvio dei lavori di assise consigliare in seconda convocazione a domani, 27 marzo, alle ore 11. Vincenzo Salerno, consigliere del Movimento 5 Stelle, richiesta un consiglio comunale monotematico per la questione NU. Questa mattina cosa è successo? Questa mattina è successo che in prima convocazione non si è svolto il Consiglio Comunale per l'assenza del numero legale sufficiente per poter procedere e quindi si passerà alla seconda convocazione prevista per domani. Cosa si aspetta per domani? Mi aspetto almeno di vedere in aula il Sindaco, che stamattina non c'era, con la sua squadra di maggioranza, anche perché oggetto della discussione odierna e poi di domani è una criticità a cuore di tutti i cittadini torresi, le sofferenze del sistema igiene urbana. Chi erano i presenti? Eravamo sette presenti, non vorrei far torto a qualcuno, se lo dimentico o se magari erroneamente me ne ricordo. Eravamo quasi tutti gli esponenti dell'opposizione, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, ricordo Valerio Ciavolino, Luigi Gardarola, Ciro Piccirillo, Salvatore Gargiulo, il collega Nello Formisano da poco passato in maggioranza, mi sembra che era l'unico presente. Poi, ripeto, eravamo sette presenti, potrei dimenticarne qualcuno. Lei cosa associa questa mancata presenza della maggioranza? È strana perché non portava nessun deliberato, era un focus doveroso per poter affrontare quelle che sono delle carenze, per proporre dei correttivi, ma alla fine non portava in sé nessun deliberato e quindi è strano. Ho poche risposte da darmi merito se non che situazioni e circostanze di questo tipo sono tristi e anche in un certo senso rispettose per le istituzioni.